Maria Orlando, presidente dell'Associazione Lalibello, la stamattina un incontro all'Aslo con una delegazione di famiglie di bimbi autistici. Da lunedì una tegola cade su queste famiglie, c'è il rischio di chiusura del centro terapeutico di Ottaviano. Sì, purtroppo la storia continua, in quanto ci ritroviamo di nuovo catapultati in un fenomeno analogo di diversi anni fa, che fortunatamente però l'epilogo fu positivo. Purtroppo sì, il centro Napoli Sanit, che copre l'assistenza anche a famiglie di Torre del Greco, lunedì ha dato comunicazione ai suoi utenti che sarà imminente la chiusura. Sono stata appunto convocata a supporto di queste mamme e abbiamo chiesto un incontro all'Aslo per cercare di capire ovviamente dal canto loro quale fosse, se ci fosse una soluzione alla problematica. Come è andato quest'incontro, quali sono state le risposte? Le risposte sono state presso a poco quelle che ci aspettavamo, nel senso che è stato superato il tetto di spesa, quindi il centro ritiene che non potrà garantire la continuità terapeutica a queste famiglie, in quanto non dispone dei fondi necessari, mentre l'Aslo sostiene prettamente il contrario, nel senso che dice che il centro, sulla base di dati statistici e quant'altro, potrebbe tranquillamente prorogare. È stato pianificato un incontro tra le parti che si terrà mercoledì 6 ottobre, dove io spero e mi auguro che sarà un incontro ovviamente costruttivo e positivo, anche perché alla fine a pagarne le conseguenze non sarà né l'Aslo e non sarà né il centro in questione, ma saranno queste famose mamme, che si ritroveranno con una sospensione terapeutica che non è affatto positiva per questi bambini ed è ulteriormente dannosa. Che significa sospensione della terapia? Sospensione significa che questi bambini si ritroveranno senza percorso terapeutico e quindi andranno in frustrazione, perché parliamo di bambini autistici, quindi potranno abbandonarsi a fenomeni di autolesionismo e quindi i genitori dovranno fronteggiare a situazioni veramente disastrose e soprattutto la cosa brutta è che si perderanno anche i progressi, i benefici acquisiti delle terapie precedenti, perché un'interruzione, una sospensione farà in modo che cadrà tutto il castello positivo che si era costruito, terapeutico che si era costruito fino ad ora. Lunedì lei sarà con queste mamme lì ad Ottaviano? Io sarò sempre con queste mamme, mi auguro che ci sarà da parte del centro in questione una sorta di collaborazione, come la stessa collaborazione che abbiamo chiesto all'ASL. Sospendere le terapie implicherebbe un sistema burocratico particolare per poterle poi ricominciare, quindi no, sarebbe un ulteriore disagio per queste famiglie, quindi mi auguro che il centro possa riflettere, soprattutto faccio proprio capo alla loro solidarietà nei confronti di queste famiglie, perché per la fine il percorso terapeutico, alla base di ogni percorso terapeutico ci dovrebbe essere anche tanta umanità, quindi almeno lunedì si scamperebbe questa chiusura, mercoledì ci sarebbe l'incontro e mi auguro che tutto vada per il meglio. Io in qualità di associazione ho già avvisato le mamme che qualora lunedì non ci fosse un'apertura anche da parte del centro, e quindi non ci sarebbe più questo scaricabarile e scaricabarile e responsabilità tra le parti. Io sarò costretta a chiedere un incontro al garante dei disabili, l'Avvocato Colombo della Regione Campania, in quanto facendo appello anche ai fondi che sono stati stanziati da De Luca, proprio per percorsi per autisti specifici, per percorsi per autisti sulla base della delibera 131, io farò appello all'aiuto, al supporto dell'Avvocato Colombo, chiederò un incontro in rappresentanza di queste mamme, affinché possa intervenire anche lui con gli organi in questione. Perché questo diritto alla salute non venga negato? Assolutamente, e io penso che il diritto alla salute e soprattutto alla continuità terapeutica, che in questo caso è funzionale, sia un oltraggio negarlo, soprattutto nei confronti di queste famiglie che già vivono un dramma di loro.